ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale oggi vediamo insieme come preparare una crostata alla zucca per rimanere in tema vi assicuro che buona è veramente buona iniziamo con preparare quello che è il ripieno della crostata in questo caso vado a schiacciare o semplicemente potete andare anche a frullare ok della zucca troverete gli ingredienti in descrizione come sempre aggiungiamo quello che è lo zucchero e l'uovo e mischiamo per bene con una frusta aggiungiamo quella che è la panna e mischiamo questo è appunto il risultato se non volete ovviamente i grumi potete frullare senza problemi a me non dà fastidio quindi per me può andare bene così ora mettiamo dentro una pentola e portiamo in fuoco aggiungiamo anche della cannella perché è sempre buono quando poi sarà ben cotta il nostro bella nostra bella crema l'importante che dovete aspettare cinque minuti circa dopo che è bollito e la consistenza appunto è perfetta ora poi procediamo con la frolla la frolla è sempre la stessa uso sempre la stessa ricetta perché ovviamente quando raggiungi quella che è secondo me la perfezione ovviamente tendi a tenere sempre la stessa non vado quindi a dare la forma alla nostra crostata poi ricordate ovviamente di fare anche i buchetti con la forchetta in modo da non farla gonfiare e aggiungiamo quella che è la nostra vedete la consistenza che è perfetta aggiungiamo quella che è la nostra crema alla zucca la rendiamo uniforme andiamo a decorare io pensavo di fare un ragnetto ovviamente non mi è venuto proprio granché però dai apprezzerete lo stesso immagino comunque sbizzaritevi visto che se dovete festeggiare la crozzata con appunto con qualche bimbo o in famiglia così sappiate che potete veramente sbizzarrire avete un macello di scelte poi per il ragnetto vado semplicemente a fare la pallina e le zampette e inizialmente era solo quattro zampette poi ho pensato no forse è meglio aggiungere altre due e gli occhi con le gozze di cioccolato ovviamente molto carina e ovviamente non poteva mancare il il sorriso ed ecco a voi il risultato fatevi sapere se l'avete provata come vi è venuta e io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui siamo sul prossimo mi raccomando iscrivetevi sul mio canale in modo da tenvi sempre aggiornati su tutti i video ciao a tutti